Il Comune di Biella e il Comitato Provinciale dell'Ampi, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, commemoreranno domenica mattina in Rione Riva l'eccidio di San Cassiano. Una pagina sanguinosa ed in fausta della storia biellese, il primo vero atto di guerra che anticipò un anno e mezzo tremendi di occupazione e guerra civile. La sera del 21 dicembre 1943 un militare tedesco morì in una imboscata nella parte di Via Italia che procede verso Riva. Le versioni non sono concordi, qualcuno sostiene che le vittime furono tre, altri che si trattò di un evento isolato, altri ancora di un attacco premeditato dei partigiani. Indipendentemente da tutto ciò, l'uccisione di militari germanici, avvenuta in una città che fino a quel momento non aveva presentato particolari problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, scatenò la reazione tedesca. La mattina del 22 dicembre i nazisti organizzarono la rappresaglia, con la fucilazione di sette ostaggi in piazza San Cassiano. I corpi ammucchiati e lasciati di monito alla popolazione. Domenica il ritrovo sarà alle 9.45 in piazza San Giovanni Bosco. Seguiranno la deposizione di una corona d'alloro in memoria delle vittime e lo scoprimento della targa dedicata ad Alfredo Baraldo, unico sopravvissuto all'Eccidio. Una storia che merita di essere raccontata. Il vercellese Baraldo cadde a terra con i compagni, ferito solo di striscio all'addome dalla raffica del plotone di esecuzione. Si finse morto, ma quando l'ufficiale tedesco si avvicinò per dare il colpo di grazia ai superstiti, venne salvato, è il caso di dire provvidenzialmente, dal sussulto di un corpo vicino al suo. Il tedesco scaricò la pistola su quello, dimenticandosi di Baraldo. Il fortunato partigiano riuscì a darsi alla fuga, ma il suo tentativo venne notato dai soldati di guardia. Cerco rifugio in un bagno pubblico del vicino edificio, e quando vide la maniglia della porta del gabinetto dove si era rinchiuso abbassarsi, disse con voce calma e convincente e occupato. Il nazista ci cascò in pieno e quando si allontanò, Baraldo aprì la porta per dare l'idea di essere uscito, vi si nascose dietro e in qualche modo rientrò salvo dalla famiglia a Vercelli. A conclusione della mattinata di domenica ci sarà la Santa Messa.